Collegio dei Gesuiti, sede del Palazzo Municipale, ma anche la Chiesa di Sant'Antonio Abbate, del Carminello, San Nicolò la Latina, Santa Caterina, la Casa Museo Scaglione, il Chiostro del Convento del Carmine, oggi Casa Circondariale, e poi ancora Palazzo Licata e Palazzo Tagliavia di San Giacomo, sono alcuni dei beni monumentali della città di Sciacca che è stato possibile ammirare nel fine settimana nell'ambito della manifestazione Le Vie dei Tesori. Una iniziativa di ormai collaudata buona riuscita ed indiscusso richiamo turistico che ha portato a Sciacca tanti visitatori, ma che è stata aggredita anche dai saccensi che hanno affollato il centro storico per ammirare le bellezze del nostro vasto patrimonio culturale ed architettonico, in un centro storico inspiegabilmente aperto al transito veicolare, come evidenzia oggi il consigliere Giuseppe Catanzaro, che sulla questione ha presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale. In questa città la ZTL funziona al contrario, aggiunge, il centro storico rimane interdetto ad auto e moto in un normale lunedì di fine settembre, con conclusione prevista per le tre del mattino, mentre viene consentito il transito la domenica in cui si svolge una manifestazione così seguita e di grande ricamo. Una vicenda paradossale per il consigliere comunale, ancor più incomprensibile per un'amministrazione che punta sulla pedonalizzazione del centro storico e che ha già annunciato, dopo la conclusione della ZTL estiva, di voler riproporre il provvedimento, seppure solo nel fine settimana. Si chiude al traffico la via Licata in giornate feriali e senza traccia di alcun evento, ma si lascia aperto Corso Vittorio Emanuele la domenica durante il primo fine settimana del festival Le Vie dei Tesori. Spero che ci sia una seria motivazione tecnica che giustifichi questa mancanza. Diversamente, aggiunge Giuseppe Catanzaro, sarebbe davvero poco comprensibile e poco credibile imporre da domani qualsiasi altra misura restrittiva in giornate prive di eventi o manifestazioni di ricamo. Nell'interrogazione vengono chieste dunque spiegazioni all'amministrazione comunale sulle ragioni per cui non è stata prevista la ZTL in centro storico e sia stata invece adottata l'ordinanza di interdizione al traffico per via Gaia di Garaffe, area che non era interessato alla manifestazione Le Vie dei Tesori.